Noi di Conad, oltre al prezzo, vi garantiamo sempre la qualità che non teme confronti per la tua spesa. Dai prodotti freschi a quelli per la cura della casa e della persona. Nella nostra linea bagno Conad Essenzie, la delicatezza è di famiglia. Ogni giorno vi offriamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi. Come il nostro bagno docce rilassante Conad Essenzie con estratti naturali. La migliore qualità a 1,70 euro. Bassi e fissi. Qualità e convenienza che non temono confronti. Grazie a tutti.